La nostra attrice sposerà ad Hollywood, terra di cinema ma soprattutto di petrolio, il miliardario americano Vincent Hylia, già marito divorziato della sorella dello Shah di Persia. Millie concede un'intervista alla Incom. È vero che sposerà Mr. Hylia? Sì, che l'ho incontrato quando era ancora sposato, poi l'ho rivisto dopo un anno dal divorzio che lui ha fatto e così ci siamo rincontrati e c'è stato il colpo di funne. E ora dove va? Per prima cosa vado a trovare il mio fidanzato, ospite dei genitori del mio fidanzato. Vado a fissare la data delle nozze, vado a conoscere i miei prossimi suoceri. Accompagnata da papà e mamma, quando i matrimoni sono veri conveniamone, la presenza dei genitori è una garanzia, Millie Vitale si prepara al gran viaggio e al gran salto. In bocca alla balena e buone perforazioni, sarà una luna di miele nel pozzo di petrolio.